signore e signori buonasera e ben ritrovati con il trading club con un filo di nostalgia a presentare un po l'ultima settimana dell'anno infatti concludiamo proprio con questa settimana il nostro live trading infatti facciamo qualcosa di unico sul panorama italiano ma anche estero ovvero un live trading ma non per un giorno una settimana un mese un live trading praticamente continuativo durante tutto l'anno e siamo qui anche un po a presentare i nostri risultati quello che abbiamo combinato di buono ma anche di cattivo nel corso del 2019 ma visto che non ci fermeremo di certo quest'anno andremo avanti anche con l'anno nuovo vogliamo dare anche qualche aspettativa per il 2020 infatti a partiremo proprio da qua per via via andare a vedere poi i risultati di tutte le operatività non solo questa sera ma da qui fino a giovedì infatti avete la possibilità di seguirci su ogni aspetto su tutto quello che facciamo e vi dico già in anticipo soprattutto chi ci segue da meno tempo a chi magari è nuovo di questa sera o chi magari è molto preparato su un'operatività e meno su un'altra magari qualche concetto qualche sfumatura potrà non essere perfettamente chiaro a questo proposito il consiglio è quello di farsi una visita sul nostro sito in particolare in corsi di trading dove trovate tutti i nostri corsi sempre disponibili vi daranno veramente una bella introduzione per capire un po le diverse tecniche che utilizziamo nella seconda parte della pagina ci sono i nostri eventi dal vivo chiaramente con natale con la fine dell'anno sono sospesi ma ripartiremo con la fine di gennaio inizio di febbraio all'incirca a breve avrete poi tutte le date un altro metodo per seguirci e rimanere sempre sotto controllo con tutto quello che facciamo è sicuramente il nostro canale youtube infatti alle registrazioni di questa sera se magari non riuscite ad esserci tutti i giorni o ne seguite solo una parte le potrete ritrovare qui all'interno appunto del nostro canale anche la nostra pagina facebook è sempre aggiornata con un po tutte le nostre news i nostri eventi quindi anche quello può essere un buon metodo per rimanere sempre con noi io sono matteo anelli e questa sera insieme a me ci sono andrea arnesano e paolo mentre dalle 21 e 15 ci sarà anche il nostro stefano per quanto riguarda la parte relativa all'intraday farà un intervento anche a noemi che ci spiegherà un progetto importante che partirà sta partendo e partirà sempre di più nei prossimi tempi inoltre con il natale come come sempre siamo tutti un poco più buoni infatti l'amministrazione ci ha lasciato di dirvi che qualora ci contattaste per continuare la vostra attività insieme a noi nel trading club il nostro regalo di natale sarà quello di farvi uno sconto quindi venirvi un po incontro rispetto ai prezzi classici di listino anche a chi è totalmente nuovo e magari ci segue da poco tempo stasera per la prima volta contattateci anche per conoscerci meglio capire effettivamente un po tutte le alternative che possiamo darvi e quelle che si sposano di più o di meno con le vostre esigenze un'altra piccola novità dalla 12 di dicembre quindi da questo giovedì ci trasferiamo a piacenza questo il nostro nuovo numero di telefono l'indirizzo così se ci vorrete venire anche a trovare assolutamente la porta sarà aperta il bello della tecnologia che ci permette di parlare con tutti voi in tutta italia ma un po in tutto il mondo perché ci seguono anche dagli stati uniti dal sud america e dall'asia però con la tanta tecnologia si perde un po il contatto umano quindi ci vogliamo rendere sempre disponibili quindi saremo sempre pronti per una stretta di mano ora andando a dirigerci verso l'argomento della serata appunto un po cosa attendersi dal 2020 in particolare ci focalizzeremo sull'azionario quali sono un po le variabili in campo per i prossimi tempi sempre prestare attenzione alla volatilità probabilmente con le materie prime che un po il mio campo di azione ne parleremo meglio e più in dettaglio nei prossimi giorni e poi avremo proprio un intervento di noemi che ci farà capire un po come ci stiamo rafforzando giorno dopo giorno grazie alla nostra community andando ora su temi più operativi ripartiamo un attimo dai mercati azionari poi piano piano scendiamo sempre più in dettaglio dunque qua stiamo vedendo l'S&P 500 e vediamo come negli ultimi cinque anni il mercato è stato sicuramente rialzista positivo l'anno scorso ha fatto un po di eccezione perché in questo periodo dell'anno c'è stata una bella una bella flessione che aveva fatto terminare il mercato il 2018 in negativo però sicuramente con l'anno in corso c'è stata una ripresa importante un recupero dei massimi dello scorso anno e dei nuovi massimi adesso ci troviamo su praticamente i massimi storici mentre per quel che riguarda l'europa anche qui vediamo un recupero siamo sulla sull'euro stocks ma ci siamo fermati un po alle resistenze della 2017 e del 2015 quindi sicuramente l'europa ha trainato meno degli stati uniti come spesso accade ma sicuramente sui mercati europei hanno pesato un po il discorsi della brexit in primis che non è ancora totalmente risolto però si prevede una possibile risoluzione almeno con con il nuovo anno fatta fuori diciamo quella variabile un po di incertezza un po negativa allora c'è una buona probabilità che la sotto performance che hanno fatto i listini europei a quest'anno possano invece un po di più recuperare nell'anno prossimo con a tema un po più generale molto spesso quando si va sui massimi c'è sempre il sentore di un crollo c'è chi chiama alla recessione eccetera eccetera detto questo vediamo un po il nostro punto di vista in quanto nei mercati soprattutto quest'anno forse il market mover cioè l'elemento che più ha pesato sui mercati su possibili esiti è stata la guerra dei dazi che trump ha lanciato un po contro tutto il mondo ma come sappiamo specialmente contro la cina infatti l'incertezza di una possibile scambio commerciale continuativo come negli scorsi anni ha posto delle ombre sulla possibile crescita globale e quindi ogni tanto ci sono stati infatti a degli storni delle degli arresti da parte del mercato proprio su indiscrezioni rilasciate da trump attraverso il suo twitter eccetera eccetera che è diventato forse nel 2019 l'indicatore più o più rilevante più importante di tutti comunque si sta sempre di più parlando di una risoluzione di questo accordo ma crediamo che non possa avvenire prima della sua prossima rielezione infatti ha una un'arma davvero importante da potersi giocare i momenti in cui il mercato tende a screcchiolare infatti pensiamo che il suo biglietto da visita per la prossima rilezione sia molto il portare il benessere dell'economia infatti agli stati uniti hanno avuto un'economia in grosso lancio un po' in quest'anno soprattutto se paragonata un po' agli altri paesi occidentali bellissimi dati per quel che riguarda il pil ma anche l'occupazione quindi pensiamo che voglia tenersi questa carta cioè il fatto di un accordo o meno proprio fino all'ultimo per poter sostenere i mercati possibile che possa avvenire un accordo come si suol dire di fase 1 che è un po' quello che si stava raccontando in questi giorni ma magari solo per alcuni beni solo per alcuni comparti ma non per tutti poi una volta avvenute le elezioni e vedremo poi l'esito perché non è scontato che trump le possa rivincere anche perché sta arrivando uno sfidante abbastanza conosciuto anche noi nel mondo della finanza che bloomberg che a proposito di capitale di soldi anche un patrimonio superiore a quello di trump quindi vedremo un po' la sfida nella prossima campagna elettorale però pensiamo che il mercato si possa avere qualche storno ma possa continuare a rimanere appunto sostenuto per il corso della 2019 e forse l'europa scrollandosi di dosso il peso della brexit potrebbe avere anche una sovra performance proprio in virtù del fatto che quest'anno è cresciuto meno il mercato europeo rispetto ai mercati più internazionali ma ora cerchiamo di scendere un pochettino più nel dettaglio perché va bene una visione generale ma vogliamo andare a capire i titoli che magari potrebbero fare meglio nel corso del prossimo anno e quindi per tutto questo lascio la parola al nostro Paolo grazie Matteo buonasera a tutti anche da parte mia visto un po' diciamo questo scenario insomma che prevediamo per quello che sarà il mercato del 2020 sicuramente per quanto riguarda il comparto azionario la nostra idea è stata quest'anno lo sarà quasi sicuramente anche per l'anno prossimo ci concentreremo su titoli o comunque su società che riguardano il mercato americano in particolare visto anche un mercato sui massimi con un eventuale possibile storno per andare insomma a ritracciare a prendere un pochettino di fiato e poi e poi riprendersi non è semplice andare a trovare quei titoli che in questo momento possono essere adeguati al nostro portafoglio però il nostro Gianluca che da poco è diventato coach ci ha proprio proposto secondo me uno di quei titoli che io quest'anno francamente non avevo guardato e per questo insomma che lavorare in community avere persone che si aiutano serve tantissimo a me in primis chiaramente per quanto riguarda gli investimenti questo titolo si chiama peoples united financial è un titolo che fa parte di un gruppo di azioni che si chiamano aristocrats sono praticamente dei titoli 57 titoli che fanno parte dello standard pura 500 che negli ultimi 25 anni anno dopo anno hanno aumentato quelli che sono i loro dividendi il dividendo infatti risulta essere la chiave del ragionamento di questa sera che vi sto facendo per quanto riguarda la parte azionaria perché in un mercato di questo genere in un mercato che è sui massimi appunto può avere un possibile storno qual è l'idea è sicuramente andare a lavorare o comunque detenere in portafoglio dei titoli delle società che staccano cedole che quindi danno l'opportunità agli investitori di ottenere dei rendimenti passivi in particolare questo titolo con ticker pbct è un titolo che fa parte anche nel nome chiaramente del settore bancario del settore finanziario un settore che attualmente si trova in stagionalità che cosa vuol dire vuol dire che tendenzialmente in questo periodo dell'anno quel settore sovra performa quelli che sono i rendimenti che tendenzialmente mantiene nel corso della vita insomma del mercato è una società molto buona per quanto riguarda il punto di vista fondamentale quindi la salute diciamo della società quindi ottimi flussi di cassa ottimo bilancio societario addirittura viene dato un rank massimo per quanto riguarda il bilancio societario di People United Financial e soprattutto chiaramente come vi dicevo l'idea dei dividendi che sono molto ampi si parla di un ritorno in percentuale anno di un 4,30% e anche dei flussi di cassa che diciamo possono portare il prezzo del titolo a livelli più elevati di quelli che attualmente stiamo vedendo in area 16 e 40 come potete vedere in questo grafico che il nostro Matteo vi sta mettendo in sovraimpressione dal punto di vista tecnico vediamo il grafico in questo momento a 5 anni con le candele settimanali io non sono uno da tanti indicatori ne uso in particolare due che sono il MACD e l'RSA e in più mi faccio aiutare chiaramente dalla volatilità che sarà poi l'argomento di cui discuteremo con il nostro Andrea Arnesano in ogni caso vederlo sui 5 anni il titolo resta comunque in una buona situazione lo troviamo sopra la mediana delle bande di bowling a 50 periodi possiamo vedere una volatilità attualmente piuttosto bassa il che significa che il titolo può continuare a crescere vediamo un RSI che in una zona ibrida quindi può salire ancora verso la zona di ipercomprato quindi può fare ancora qualche strada e un MACD che dà un segnale positivo quindi di continuazione di trend in atto è giusto fare un'analisi di questo tipo sui 5 anni perché l'obiettivo di investimento su questo titolo è entrare in maniera direzionale quindi non utilizzare la tecnica del pair trading che vedremo poi nei prossimi giorni ma mantenere poi questo titolo da cassettisti quindi sul lungo termine la cosa che ci avvantaggia e poi concludo è proprio il prezzo attuale contenuto perché in questo modo possiamo eventualmente sfruttare la potenza delle opzioni cosa significa? invece che intervenire magari direttamente sul titolo andare a vendere delle opzioni put naked con l'obiettivo di essere assegnati e quindi avere in carico poi in acquisto 100 quote del sottostante quindi 100 quote di people financial e quindi avere un investimento globale intorno ai 1600 dollari e detenerla poi per il lungo periodo so che già con il nostro Gianluca e Andrea avete approfondito questo piccolo concetto magari per le battute finali e per la volatilità lascio la parola al nostro esperto in opzione Andrea Arnesano grazie Paolo e ben ritrovati a tutti parliamo un po' di... intanto mi associo per l'appunto anche ai ringraziamenti a Gianluca perché ci abbiamo marciato parecchio in questi ultimi giorni con questo tipo di azioni che fanno parte del paniere delle aristocrats e ovviamente insomma vi invito a guardare un po' tutte le sessioni che abbiamo fatto in queste ultime giornate per quanto riguarda noi come sapete per lavorare con le opzioni un elemento fondamentale è la volatilità quindi non solo la volatilità implicita dei singoli strumenti ma anche la volatilità nel suo complesso qui l'abbiamo vista implicita diciamo per quanto riguarda il titolo azionario e vediamo che è abbastanza medio-bassa diciamo in questo periodo però vediamo come sta andando invece la volatilità nel suo complesso tramite l'indice VIX perché sappiamo per l'appunto che l'indice VIX ci dà delle informazioni molto molto importanti infatti in tanti lo giudicano un po' lo strumento che misura il nervosismo sul mercato e addirittura l'indice della paura e ci sono delle giornate in cui effettivamente succedono cose strane perché? perché generalmente il VIX è su livelli bassi quando il mercato è tranquillo quando il mercato è forte come è stato praticamente bene o male negli ultimi mesi ha fatto ottobre e novembre che addirittura era tornato sotto i livelli di 12 che sono un po' i minimi di questo ultimo anno poi ha avuto una fiammata come vedete all'inizio della settimana scorsa quando il mercato è tornato un po' ed è ritornato giù quando il mercato è recuperato la cosa un po' particolare si è verificata anche oggi si è verificata anche oggi perché se torniamo sull'SPX vediamo che oggi il mercato è rimasto praticamente immobile forse ha perso qualche punto vedete c'è una candela microscopica rossa sì, no, saremo nell'ordine dello 0,1-0,2% di negativo e il VIX invece, guardate un po' la chiusura di venerdì era sui livelli di 13,50 circa mentre oggi è ripartito ed è arrivato fino a 3,15-15,50 che sembra poco ma in termini percentuali siamo nell'ottica dell'11-12% e allora perché ha fatto un movimento così forte anche se il mercato è rimasto completamente flat oggi completamente immobile perché è successo che negli ultimi 2-3 giorni il mercato è ritornato sui massimi precedenti quindi cosa succede? che tanti investitori si vanno a piazzare sul VIX anche se il mercato non sta scendendo non per una particolare paura attuale ma perché quando il mercato arriva sui massimi c'è sempre un po' questa paura, quest'ansia e angoscia che prima o poi, o meglio che presto possa nuovamente ritracciare, stornare perdere magari un 10% come è nell'ordine naturale delle cose e quindi tanti investitori evidentemente oggi si sono riversati completamente sul VIX facendo di fare questo movimento così forte ci tengo a precisare che, per chi non lo conoscesse che sì, il VIX non si muove in maniera speculare ai mercati cioè non è che se l'indice azionario fa l'1% il VIX fa l'1% di solito si muove 10 volte tanto però oggi ci si aspettava un range di un 2-3% col movimento degli azionari invece addirittura 10-11-12% sicuramente va a denotare un mercato che non è nervoso ancora per carità però è nervoso solo all'idea mettiamola così e quindi fondamentalmente è così che si è andato un po' a configurare questo andamento tra l'altro, altra curiosità vi ricordate che qualche settimana fa avevamo parlato di un grosso investimento da parte di un fondo che aveva, e ancora, acquistato 50.000 opzioni a strike 65 su VIX che per ritrovare quei livelli Matteo dovremmo mettere credo 12 anni come, vedi, sì eccolo là, vedete esattamente quello che è accaduto nel 2008 ora, che cosa significa acquistare una cola 65? intanto, chi ha comprato le cola 65 le ha comprate per 10 centesimi l'una quindi vuol dire che ha come obiettivo proprio 65 o meglio, 65,10 cioè il prezzo che ha pagato però per darmi una dimensione se il titolo dovesse arrivare a 95 come ha fatto nel 2008 un investimento di 10 centesimi andrà a fruttare 30 dollari fatevi voi i calcoli in percentuale perché io non sono capace comunque 10 centesimi diventano 30 dollari in percentuale si parla del 1000 1000 quindi una cosa folle chiaramente chi si è messo là non sappiamo se si è messo là perché ha visto nel futuro e da qui ad aprile ci sarà una recessione perché per arrivare lì non basta il ritracciamento deve essere proprio recessione come fu nel 2008 o magari si è messo lì solo a copertura perché del resto se ci pensiamo visto che il moltiplicatore 100 le ha pagati 10 dollari l'uno vuol dire che ha investito mezzo milione quindi mezzo milione per un fondo che magari muove miliardi non è quasi nulla questo non lo possiamo sapere però è una curiosità interessante tra l'altro poi le call sono aumentate perché è stato ripreso da diversi giornali e anche noi nel trading club ne avevamo comprata una avevamo investito questi 10 cent così tanto per aggregarci al greggio diciamo però insomma questa è una curiosità e quindi ultima curiosità e chiudo il VIX il metodo con cui è calcolato è cambiato dal 2008-2009 in avanti perché prima era estremamente legato all'andamento dei mercati finanziari inteso soprattutto come azioni bancarie cioè molto legato all'andamento delle banche poi visto quello che ha combinato tra 2008-2009 anche il VIX l'hanno un po' slegato diciamo solamente dai mercati bancari quindi per quello dico i valori di prima non hanno più tanto senso in questo momento quindi il VIX lo si può guardare a due anni non è bene andare troppo indietro Ottimo, ottimo davvero Andrea spiegazione fantastica sul VIX che terremo anche noi sempre sotto controllo come assicurazione diciamo una parentesi velocissima per quel che riguarda le materie prime infatti ne parleremo meglio nei prossimi giorni entriamo più nel dettaglio vi darò un'aspettativa generale andando poi appunto nello specifico di singole materie prime ma soprattutto di singoli spread infatti la nostra operatività principe è proprio il commodity spread sono andato un attimo su questa pagina che riassume un po' le ultime posizioni che abbiamo in portafoglio nonostante ce ne siano tre che vanno molto bene e una che ci fa soffrire leggermente abbiamo chiuso la posizione sul caffè registrando una piccola perdita rispetto ai profitti che stiamo facendo e rispetto al capitale che utilizziamo ma come si suol dire a volte è meglio tagliare velocemente le perdite e provare a far correre i guadagni come nel caso del cacao ma di tutto questo ne parliamo meglio da domani e soprattutto da mercoledì diciamo sera quando ci sarà il laboratorio specifico appunto sul commodity spread ora diamo voce a Noemi che è una voce ormai ben presente all'interno delle nostre dirette per chi ci segue già da diverso tempo anche lei fa parte un po' di come dire questa bella schermata con tanti visi perché anche lei è stata una nostra cliente ci ha seguito per diverso tempo ha raggiunto risultati importanti ed è passata un po' dall'altra parte del microfono diventando una nostra coach ci parlerà meglio di questo aspetto e un po' di tutti quelli che si stanno unendo a noi Noemi buonasera e ben ritrovata Ciao Matteo buonasera e buonasera a tutti grazie mille per la presentazione e volevo dire che in questa settimana conclusiva di Trading Club ho anche io il piacere di presentare alcuni nostri clienti che hanno intrapreso un percorso diverso nell'arco di questo anno nel 2019 molti di voi come hai già introdotto tu Matteo già mi conoscono hanno sentito la mia voce in particolare durante i laboratori in opzioni e spread in realtà il mio rapporto con la community è molto più diretto in quanto il mio ruolo principale è stato quello di personal coach che mi ha portato a svolgere solo in quest'anno quasi 200 ore di sessioni private e proprio quest'anno che è nato il programma dei coach i volti che vedete infatti qui sono dei nostri clienti che hanno amato il nostro messaggio hanno amato la nostra squadra e hanno intrapreso con grande entusiasmo la sfida di passare da clienti a coach e con lo stesso entusiasmo che ora ve li presento perché saranno al servizio di tutta la community a partire da gennaio in particolare questa sera vi voglio introdurre i coach in intraday abbiamo Lorenzo che non sarà soltanto un coach ma anche un trader è specializzato nell'operatività sul Nasdaq dal 2009 sarà infatti il protagonista di un nuovo corso in intraday che accompagnerà il già conosciuto Standard & Poor con il crescere della community infatti crescono anche opportunità come questa e le vostre idee diventano la forza di tutti non vi lasciamo soli ovviamente dal lato dello Standard & Poor perché come coach abbiamo Alberto abbiamo avuto modo di sentire Alberto in diretta la scorsa settimana ma già da tempo lo potete trovare all'interno della nostra community per sostenere tutti i membri all'interno dell'Academy per chi non conoscesse queste sigle che accompagnano i nostri coach nel caso di Alberto vediamo un NTJ gruppo pianificatori si tratta del loro profilo limitless la profilazione della personalità in questo caso diventa doppiamente fondamentale perché oltre a conoscere meglio noi stessi e a migliorare le nostre performance ci consente di trovare il coach più adatto a noi con un approccio al trading che più si adatta maggiormente alla nostra personalità infatti non sono la sola che ha contribuito a formare la squadra dei coach di quest'anno oltre ai top trader che sono Matteo, Andrea, Stefano e Paolo perché andiamo a massimizzare le loro capacità con una formazione completa che parte proprio dalle proprie attitudini grazie anche alla dottoressa Silvia Pallavicini che l'abbiamo già citata tantissime volte nelle nostre dirette e co-fondatrice del programma Bieviro L'Alfa che è inerente appunto alla finanza comportamentale vedremo che soprattutto nell'intraday di cui seguirà poi il laboratorio questa sera non è fondamentale solo la tecnica infatti tra i nostri coach non mancheranno anche sessioni di coaching motivazionale detto questo apriamo quest'anno anche la possibilità di candidarsi per ovviamente i nostri clienti che vorranno far parte della nuova squadra alle selezioni per il 2020 quindi nel 2020 seguirà nuovamente un corso un programma intero di formazione che vi consentirà quindi di passare da clienti ad entrare a far parte della squadra come tutti gli altri ragazzi che abbiamo già sentito appunto abbiamo citato anche Gianluca come Lorenzo e Alberto che abbiamo visto questa sera abbiamo questo link qua tradinginvestigacademy.alfaforall.com diventa coach oppure all'interno della nostra academy in tutti domande e risposta potete trovare il form che vi consentirà di inserire il vostro nome la vostra mail e qual è la vostra operatività preferita in cui avete piacere di candidarvi come coach fantastico fantastico Noemi spiegato perfettamente un po' tutto quello che ci aspetterà per il 2020 anche lato coaching quindi saremo felici di accogliervi in squadra ed essere più forti tutti insieme infatti non a caso il motto l'unione fa la forza non è messo lì perché sta bene su un sito ma è il motto in cui crediamo veramente e che portiamo avanti con questo tipo di progetti di sicuro ma diciamo tutti i giorni nel trading club confrontandosi, operando insieme trovando le migliori soluzioni proprio per parlare di migliori soluzioni ma avere una visione anche più ampia di quello che è stato nell'ultimo triennio i risultati del 2019 e le prospettive per il 2020 per quel che riguarda la nostra operatività in intraday cedo la parola al nostro trader di riferimento Stefano Corvi Ciao Matteo, ciao a tutti e benvenuti anche da parte mia eccoci qua tirghiamo le somme per il quinto anno da un punto di vista di trading in future intraday diciamo la costola del trading club ecco meno legata agli investimenti più legata a un trading un po' più speculativo con operazioni che si aprono e si chiudono in giornata e qua devo sempre mettere diciamo l'asterisco perché spesso è visto interpretato come un po' una roulette come un metodo per sul lungo bruciarsi il capitale ecco in questo caso lo dico soprattutto perché questa sera si collega per la prima volta per quanto ci riguarda è una professione nobile al quanto tanto gli altri investimenti semplicemente uno stile di trading diverso magari meno legato a dinamiche di tipo macroeconomico visto che di notizie macroeconomiche anzi se qualcosa noi tendiamo ad evitarli ma è un approccio basato sì sugli investimenti ma essendo di brevissimo termine per come è la nostra visione è un rituale quotidiano una routine che ci porta un rendimento fine mese che ovviamente la prospettiva è quello di farlo diventare una professione primaria ed è il motivo per cui la maggior parte ci stanno vicini ma come sempre si parte da cose più piccole quindi come prospettiva iniziale è quello di avere una rendita alla fine del mese con tutta una serie di vantaggi rispetto agli altri investimenti che stasera andremo a descrivere abbiano un po' di pazienza i miei corsisti che sono all'interno di questa sera a voi vi ho già fatto contenti oggi con il live trading quindi stasera volevo un po' fare un overview di quello che è stato questo triennio perché paradossalmente parlando proprio di statistica ed è qua che da qua vorrei partire dai mercati da come noi affrontiamo il nostro unico sottostante di riferimento che è il future dello standard in pur che adesso andiamo pian piano a vedere è indispensabile partire da lontano per poi andare sempre più nel micro e capire come il mercato cambia e si evolve perché? che ci piaccia o no il mercato non è una scienza esatta se ci fossero delle dinamiche piuttosto ricorrenti allora ci sarebbe già qualche sistema ad alta frequenza qualche megafondo che già andrebbe ad utilizzare in realtà il bello del mercato è anche questa sua aleatorietà e a differenza però dell'andare al casino con un po' di pratica un po' di osservazione e tanta, tanta, tanta e sottolineo tanta determinazione il risultato vi assicuro che è fattibile e realizzabile ed è quello che cerchiamo di trasmettere oramai da diversi anni perché paradossalmente anche in questi 20 minuti in cui staremo insieme vi posso già spiegare tutta quella che è la tecnica tutte quelle che sono le regole quali sono le strategie gli orari anzi se non mi credete andate sul sito di assistenza broker dove ci sono i corsi di trading ora non so il vostro livello di preparazione ma se qualcuno di voi è già in reale e quindi sa cosa vuol dire andare a mercato sa, ha già preso anche qualche schiaffone magari sul mercato qua dentro trova tutto ciò che gli serve per approcciarsi con un vantaggio statistico al mercato e allora uno potrebbe pensare cosa sei qua a dirmi stasera sono qua al mettervi al riparo da quella che è un'operatività apparentemente molto semplice uno stile operativo dove tutti coloro che si approcciano si vanno a concentrare sulla tecnica perché giustamente è qua dove l'aspirante trader ha la concezione per diventare bravo e nessuno va mai poi a lavorare sull'aspetto emotivo ed è lì che poi si fa la differenza giorno dopo giorno in una professione solitaria come il trader in 3 day dove tutti i giorni è richiesto l'approccio di un'oretta si perdono si perde quella routine si perde quella lucidità e tutti i sermoni che cerchiamo di trasmettervi quotidianamente l'avidità l'eccesso di confidenza e le prospettive apparentemente rose portano a dinamiche emotive che poi fanno sì che praticamente nove persone su dieci non riescano ad affrontare nel migliore dei modi questo mondo quindi a differenza delle altre operatività dove siamo noi primi a dirvi basta un po' di conoscenza tecnica darvi il giusto tempo e vederla come è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti con l'intraday seppur sia io in prima persona a portare avanti questa esperienza in trasparenza vi dico non è per tutti e qui quindi il primo passo è provatelo mettetevi alla prova cercate di capire se effettivamente un'operatività che vi adatta perché come dico sempre in questi anni ho visto grandi investitori che nelle altre operatività facevano veramente ottimi risultati dopo due settimane alzare bandiera bianca non perché hanno riportato delle loss ma proprio perché era un'operatività uno stile a loro non adatto altri investitori a cui io in primis non avrei dato un centesimo che in realtà si sono rivelati dei grandi samurai e dei grandi militari traendo da questo tipo di operatività grandissime soddisfazioni quindi stasera andiamo a vedere un pochettino quello che è successo e poi diciamo eventualmente nelle vacanze di natalizie vi diamo un po' di materiale così l'obiettivo è di capire se effettivamente è un'operatività che potete abbracciare allora sarà un piacere l'anno prossimo avervi dei nostri anche in questa famiglia diversamente tenete sott'occhio gli investimenti, quelli di medio e lungo termine che vedrete nei prossimi giorni e da lì troverete sicuramente uno stile operativo che si vada a riadattare nella vostra vita privata lavorativa e a seconda di quelli che sono ovviamente i vostri obiettivi accennavo prima parto da questo quindi la prima predisposizione come potete vedere è essere abbastanza amanti dei numeri perché qua non si parla di quanto le banche centrali abbassano i tassi di interesse o qual è la prospettiva del PIL trimestrale dell'America ma andando ad utilizzare un solo sottostante per una sola ora al giorno il riferimento statistico più vantaggioso è proprio quello basato sulla statistica e quindi all'interno di tutta una serie di considerazioni di tipo sia di volumetrico ma anche di oscillazione del prezzo il nostro lavoro quotidiano è quello di approcciarsi ai mercati cercando di strappargli quel movimento quel vantaggio statistico che ci serve poi per ottenere la nostra rendita alla fine del mese come vi accennavo all'inizio il mercato cambia è uno dei grandi inconvenienti di quello che abbiamo visto in questi anni dei nostri investitori che hanno un metodo statisticamente vantaggioso ve ne posso dire a decine andate a colpire ogni giorno il prior close e vi assicuro che 6 volte su 10 vi andrà bene mettete un paio di medie mobili a 7 periodi andate ad operare nell'incrocio delle due medie mobili vi assicuro che 6 su 10 vi andrà bene quindi non è tanto il metodo che fa un trader duraturo nel tempo purtroppo trovarsi nel posto giusto nel momento giusto è anche abbastanza usuale perché nel momento in cui uno studia sui mercati va ad allenare l'occhio va ad allenarsi su dinamiche che in quel momento lì funzionano e quindi la prerogativa la prospettiva è quella che l'applicazione pratica sia altrettanto valida in realtà questo è un primo riassunto di quello che sono stati gli ultimi tre anni perché è una cosa che vado spesso a far leva con chi ci sta vicino nel trading di tutti i giorni se osserviamo il 2017 questa è una distribuzione in termini di immaginiamo il mercato poi lo vediamo anche da grafico come un continuo movimento a rialzo, a ribasso dove ci sono compratori e venditori che si scannano per far prevalere una tendenza piuttosto che un'altra e questa è l'estensione di queste cavalcate quindi più un movimento è ricorrente più lo troviamo nella colonnina se osservate nel 2017 questi valori siamo nell'ordine di poche centinaia se osserviamo il 2018 e il 2019 i valori sono di circa 6 volte tanto questo cosa significa? che qualsiasi sistema ed è quello di vostro cugino del vostro amico del vostro consulente di fiducia dell'expert advisor che avete costruito del trading system che avete scaricato legalmente da torrent se funzionava qua qua non funzionava ma proprio ci possiamo mettere la firma perché essendo tutti basati su dinamiche di movimento del titolo al cambiare del movimento del titolo ovviamente si va a perdere in quella che è l'efficacia c'era di buono che chi era dal 2015, 16, 17 aveva lavorato bene adesso sono un paio di anni vedete sia 2018 che 2019 è tornato un po' di volatilità ce l'ha fatta vedere anche prima il nostro Andrea Nesano il famoso grafico sul VIX che ci dà un po' il sentiment di quello che è stato l'andamento del mercato dal 5-6 febbraio del 2018 qualcosa è cambiato è tornato ancora un po' di movimento e quindi il mercato si è messo in un modo che deve essere trattato in maniera necessariamente diversa rispetto agli anni precedenti e uno mi dice ma se si fanno operazioni da pochissimi minuti che senso ha andare a vedere uno scenario di così lungo termine perché il secondo grande errore a cui vorrei farvi evitare per i prossimi anni è che voi non siete trader per la stagione autunno-inverno 2019 o la primavera del 2020 la prerogativa di un trader mettete anche che diventate bravissimi in un annetto un annetto e mezzo che se volete farlo di professione è il minimo sindacale su cui dovete puntare per ottenere dei risultati che siano minimamente lineari nel tempo l'altra prerogativa è che pur lavorando con interessi composti per arrivare a una rendita degna di noto comunque scegliere di fare come professione il trader dovete quantomeno quantificare un arco temporale di 10-15 anni altrimenti ripeto sarà semplicemente una finestra ma non penso che voi siete qua collegati a un webinar il lunedì sera per tirarvi fuori una soddisfazione per sei mesi e quindi è necessario prima ancora di intavolare un discorso per dire vado long qua vado short qua definire quelli che sono gli obiettivi della vostra attività imprenditoriale e avere una visione nel medio-lungo termine toglie a livello emotivo quantomeno quei preconcetti che sono quelli che vediamo fregano la maggior parte degli investitori ovvero è impossibile che faccia così sul mercato di impossibile non c'è assolutamente niente ne abbiamo viste doni dalla Brexit dall'elezione di Trump a fare dei numeri stratosferici è ovvio che come diciamo sempre se facile lo farebbero tutti in realtà è una professione vera e propria è un'attività imprenditoriale vera e propria servono tutta una serie di requisiti per andarla a sviluppare partirei da qua prima di arrivare al minuto quindi operazioni a un minuto è giusto avere una visione degli ultimi dieci anni quindi anche chi magari sui mercati li ha solo visti in maniera teorica questo è stato il fantomatico 2008 crisi dei multi su prime crisi di tutta l'economia americana partendo dall'immobiliare che poi ha trascinato giù anche tutta la parte europea e vedete che al di là che ci siano state sedute molto ma molto volatile molto a ribasso cioè non c'è il concetto di crisi stile 11 settembre che è una giornata e basta che tra l'altro lì la borsa poi ha chiuso per una settimana ma è tutta una serie ciclica di giornate ribassiste che fanno perdere valore al nostro in questo caso future dello standard impur che è un po' il benchmark dell'economia americana e vedete come nel giro di un anno l'economia americana si stia svalutata di oltre un 50% qua quindi siamo già di fronte a quello che è un potenziale aneddoto a cui ci troviamo davanti il povero investitore che si è messo da parte quattro spiccioli ha deciso di iniziare a investire nel 2008 si è trovato il conto potenzialmente dibezzato nel giro di un anno senza saper chi ringraziare da qua per fortuna abbiamo evitato per un pelo lo sfraccelo e pian piano il mercato ha iniziato a riprendersi e vedete come dal circa metà del 2013 il povero investitore che aveva investito il giorno prima ha rivisto i suoi soldi e qua quindi ha dovuto aspettare è vero tre anni ma da qua in poi c'è stata una grandissima ascesa sul mercato e l'investitore ma nessuno l'ha fatto perché nessuno vedrebbe a più cento per cento lascerebbe lì ancora i suoi soldi avrebbe visto un incremento del cento per cento nel giro di cinque anni ora trovatemi un qualsiasi fondo un qualsiasi benchmark di riferimento che ci possa dare dei rendimenti di questo tipo e stiamo parlando di un paniere quindi non delle singole azioni abbiamo anche la tranquillità di operare su un indice quindi con delle oscillazioni molto contenute già da questo dovrebbe emergere qualche dubbio ovvero ma come mai i fondi ci restituiscono un 2-3% l'anno quando il benchmark di riferimento ha fatto una media del 15-20% l'anno e questa avete qua la figura di quella che è la nostra missione del 2012 ovvero fatelo da soli che sicuramente è molto più conveniente e numeri alla mano riusciamo a superire anche a momenti piuttosto brutti di crisi con semplicemente andando a gestire noi i nostri soldi senza passare per 2.000 milioni di intermediari che ovviamente ognuno di questi deve andare a mangiare riportando in termini grafici quello che vi ho fatto vedere prima in termini numerici abbiamo visto come un 2017 a livello di volatilità è stato un anno piuttosto buono ma se osservate proprio l'estensione delle singole candele che ogni candele equivale a un mese è un'estensione molto ma molto limitata cioè il mese più volatile ha fatto un movimento di un 4,5% così a occhio se osservate invece il 2018 e il 2019 ecco spiegate in termini grafici quello che era la predisposizione in Excel ovvero c'è stato un sostenziale aumento della volatilità e seppur ci siano stati anche dei punti molto bassi e ci stiamo riferendo al Natale dell'anno scorso il mercato è stato comunque molto ma molto forte ed eccoci qua per proseguire in quella che forse è l'unica regola non scritta ma sempre verificata sui mercati ovvero i mercati sul lungo salgono e quindi è vero bello andare short bello vedere che crollano bello vedere che scendono molto veloci ma statistiche alla mano non so quanto sia conveniente muovere i nostri investimenti su una struttura di questo tipo quindi appurato che i mercati cambiano e sono in continua evoluzione mi faceva piacere insieme a voi fare un recap di quello che è stato questo 2019 che comunque si è caratterizzato da scambi piuttosto buoni qua vi faccio solo un piccolo escursus su quello che è stato il 24 dicembre dove abbiamo toccato veramente i minimi sul mercato americano e poi il 26 dicembre che è stata la seduta più long dell'S&P negli ultimi dieci anni quindi sicuramente degna di nota per il resto è stato un anno statisticamente nella media ci sono state diverse alternanze tra bassa media e alta volatilità che vi rimando poi ai corsi di trading sono la prima discriminante per andare a impostare una strategia statisticamente profittevole in termini piuttosto semplici il nostro lavoro di preparazione al trading di tutti i giorni si basa su fare un'analisi piuttosto sistematica quando il mercato ancora non è aperto quindi dalle 15.15 alle 15.29 e da lì a seconda di quella che è la volatilità ovvero il primo input statistico andiamo a definire quella che è la nostra potenziale strategia in altre parole se sono di fronte a un mare statisticamente calmo quindi proprio che va a filo dell'orizzonte è difficile che nei prossimi dieci minuti il mercato faccia così è vero il temporale può sempre venire la tromba d'aria può sempre venire però basandoci su statistica e numeri è molto più difficile dall'altro canto in se già vedo che dalla mattina al pomeriggio il mercato o comunque il mare è un mare forza otto difficilmente da lì a dieci minuti tutto si va a calmare e il mercato torna tranquillo e quindi il nostro primo lavoro è qua essendo trader in tre day è un lavoro che dovremmo fare tutti i giorni in preparazione è andare a stimare la potenziale volatilità bassa media o elevata e da lì andare a strutturare quella che è la strategia statisticamente più profittevole e diciamo che numeri alla mano anche quest'anno siamo stati più bravini e dove non lo siamo stati ovvero quando il mercato o il mare è passato dall'essere calma piatta a un mare in tempesta e dove abbiamo preso le stop qualcuno non ha mai preso una stop in vita sua? tutti le abbiamo prese le stop tutti continuiamo a prenderle e tutti continueremo a prenderle anche nel nostro 2020 e qua si entra nel secondo discorso ovvero quello di un money management primis che deve essere anch'esso pianificato e seconda considerazione grazie al cielo la nostra operatività a differenza delle altre finita la nostra oretta ai mercati quindi al massimo alle 4 e mezza della nostra attività imprenditoriale si tira giù la saracinesca e fino a domani chi si è visto si è visto questo ci porta una serie di oggettivi vantaggi perché comunque poi il mare nel corso delle altre 23 ore può fare tutto quello che ne ha voglia ma noi non siamo più esposti a mercato e quindi nel nostro gioco di numeri passatemi il termine gioco ma di gioco non c'è assolutamente niente possiamo andare ad escludere tutta quella serie di valori eccessivi che si vanno a verificare solo in determinati orari solo in determinate situazioni che noi possiamo permetterci di segare via perché tanto non ci appartengono perché in quell'ore lì statisticamente si verificano molto ma molto raramente la seconda situazione è che ovviamente essendo in un'ottica giornaliera possiamo permetterci di dare un peso alla strategia molto ma molto a nostro favore per la cronaca anche qua vi dico tutto perché non è che abbiamo segreti non voglio fare il venditore di pentole noi utilizziamo un rapporto rischio rendimento di 1 a 1 perché comunque consapevoli che anche quando saremo bravi il tasso di profitto sarà di un dal 65 al 70% io che sono bravino ma ottobre non sono stato bravissimo però anch'io i miei momenti no sono diciamo sul 70-72 questo ci permette che anche in una giornata storta basta solo un'operazione per poter tornare statisticamente in pari e quindi palla al centro abbiamo un'altra opportunità quel giorno di chiudere la nostra operazione in profitto perché dico questo perché un'altra grande brutta abitudine che è insita di ogni trader e sto generalizzando perché ci siamo passati tutti io compreso e penso anche la maggior parte di chi ci segue è quello di che quando vanno le cose vanno bene chiudiamo subito perché intanto che li ho li porto a casa quando l'operazione va male accendiamo i cerini ci rivolgiamo a qualsiasi santo qualsiasi religione ci appoggiamo a qualsiasi indicatore oscillatore pur di giustificare quella che è la nostra operazione sperando nel fatto nel mercato che si rigiri e ci aiuti questo porta a creare operazioni con rapporti totalmente assurdi che spesso per interi mesi illudono i nostri investitori poi arriva la stringa è uno buttato via tre o quattro mesi di lavoro con una sola operazione e allora dice ma chi è che me la fa fare di star qua tre o quattro mesi un'ora al giorno quattro giorni a settimana per portarmi a casa dei buoni profitti e poi arriva il giorno storto e mi brucio via tutto è la stessa frase di quando vi contattiamo telefonicamente e ci raccontate un po' la vostra storia e vi chiede ma com'è andata l'anno scorso e voi dite guarda Stefano stava andando molto bene poi ho fatto un paio di cazzate e purtroppo il saldo è negativo non lo so se effettivamente era andata bene sarebbe interessante andare a vedere il singolo peso data sulla singola operazione per vedere se effettivamente avete lavorato bene come trader oppure vi siete un po' autoillusi con strategie palesemente diciamo a vostro favore che però è solo un'illusione che date voi stessi perché prima o poi il mercato torna e richiama il conto e quindi si torna alla pari in maniera molto ma molto più democratica di quello che pensate tornando al nostro S&P da una valorizzazione di volatilità scambi distribuzione degli scambi perché è qua l'altro punto chiave su cui noi ci basiamo ovvero come vedete il qualsiasi tipo di grafico che sia questo settimanale questo giornaliero che sia questo qua a un minuto che sia questo qua con le range bar che non è stasera il momento giusto per spiegarlelo non è che vedete tutte queste grandi ragnatele alla Spiderman con 480.000 indicatori perché oltre alla statistica l'altro grande punto di riferimento che teniamo in considerazione è l'aspetto volumetrico partiamo dal presupposto e ve lo dice uno che gli indicatori li ha provati tutti con qualsiasi setup con qualsiasi addon con qualsiasi modifica l'indicatore non è nient'altro che una struttura numerica bene o male come quella che vedete qua in un altro formato ovviamente con un'altra predisposizione che va a trarre una media un scarto quadratico medio una devianza un po' quello che ne avete voglia sul passato su un time frame che voi decidete e vi va col beccuccio a restituire in su o in giù quella che è la prerogativa da lì al momento X successivo che sia un minuto a 5 minuti o a un mese a seconda di quello che sia il vostro time frame da uno che li ha provati tutti non dico che non occorrono anzi sulle operatività di medio e lungo termine ci danno una grande mano perché comunque non possiamo avere una visione a 6 mesi o un anno basato solo sulle candele dobbiamo poi concretizzare su quelli che sono i trend un pochettino più macro ma quando si parla di intraday davvero o siete davvero dei maestri nel settaggio e allora vi servono anni per diventare maestri nel settaggio ma allora fate prima a diventare trader discrezionali diversamente o li settate troppo sensibili e quindi andrete incontro a tutta una serie di falsi segnali e andrete in overtrading più operazioni operazioni meno mirate più diluite quindi si perde il senso del denaro si perde il senso dell'operazione il trading diventa un così un caramba che sorpresa e dopo tre mesi vi stufate ed è anche giusto che sia così perché se siete esposti a tutta una serie di operazioni sparate nel mucchio poi non ci tirate fuori niente la maggior parte di voi ecco siete professionisti avete un lavoro avete una famiglia non è che avete le vostre esistenze da buttare via ricorrendo uno stile operativo dall'altro canto se siete stati troppo lenti non andate mai a mercato e quindi un giorno non andate a mercato il secondo giorno non andate a mercato il terzo giorno non andate a mercato il quarto giorno vi scocciate andate a mercato anche se non ci sono i presupposti perché l'essere umano è fatto così e quando non entrate preparati il mercato è subito pronto a segarvi e di conseguenza anche quello ha un effetto negativo la prerogativa piuttosto semplice e banale in quella che è la spiegazione è che se ci sono volumi significa che in quella determinata area di prezzo tante persone hanno comprato o tante persone hanno venduto inizialmente non sarà richiesto di andare a leggere proprio un dettaglio chi è comprato chi ha venduto quella è una prerogativa quando lo dovrete fare quasi come professione all'inizio ci basta sapere che queste aree di prezzo costituiscono una calamita e il prezzo li tenderà a tornare proprio perché tutti i vostri amati indicatori oscillatori tenderanno a convergere verso quelle aree di prezzo perché gli indicatori sono costruiti proprio sul feed dello storico dei prezzi e quindi il nostro lavoro quotidiano è strutturare delle strategie di trading che si basano sull'andamento dei massimo 4 o 5 giorni precedenti andando di individuare aree di prezzo dove sono stati scambiati tanti contratti perché la statistica si dice che lì il prezzo tenderà a tornarci e da lì che noi andremo ad effettuare le nostre operazioni le operazioni che di solito si strutturano in zero operazione come ad esempio fatto oggi perché il mercato è totalmente inchiodato sui massimi è venuto giù solo nel tardo pomeriggio la prima ora è stata sostanzialmente eccola qua in un fazzoletto di punti e ci basta individuare davvero un movimento al giorno o meglio per chi se ne intende un po' di future altrimenti non preoccupatevi li trovate nei corsi di trading ci basta portare a casa due punti a settimana questo due punti a settimana ovvero compro l'S&P a 3.140 lo vendo a 3.142 ho finito la settimana di lavoro punto poi l'avidità il fatto del guadagno facile vi porterà a immergere a tutta una serie di variabili che sono quelli che fanno la differenza tra i bavi cattivi trader però sostanzialmente l'obiettivo settimanale è apparentemente molto ma molto semplice ora non mi va di svendermi con i risultati risultati li facciamo vedere ogni giorno in diretta e i risultati ecco se insomma sono qua in diretta dal 2012 qualcosa di buono abbiamo fatto però non la nostra bravura non è tanto quanto sappiamo tradare noi ma la nostra bavura è quanto noi riusciamo a trasmettere la nostra esperienza la nostra passione e aiutare voi tre a trovare la vostra strada perché come vedrete già nell'anno prossimo con sia con Alberto che con Lorenzo ad esempio Lorenzo ha scelto la strada del Nasdaq mi è stato vicino nel 2015 poi per lui lo standard and poor era troppo lento e quindi ha semplicemente riadattato le regole che quelle statistiche i volumi sono volumi però ha un sottostante un po' più liquido un po' più per natura brillante e Lorenzo ha trovato lì la sua strada e su quella è andata avanti quindi per me la vera soddisfazione e la vera missione non è dimostrare quanto noi siamo bravi ma quanto poi effettivamente dall'altra parte i risultati arrivano in ogni caso per darvi un ordine di grandezza lascio a voi i conteggi perché davvero non mi piace scadere in percentuali becere due punti a settimana sono otto punti al mese otto punti al mese tolte le commissioni siamo sui 350 dollari di profitto con un contratto solo tenete conto che con un contratto di future dello standard rempour alcuni broker in media ci chiedono 1500 2000 dollari di margine quindi fate i conti sul capitale investito che quota è ora non la dico ripeto se no sembra un marchettaro di quelli che vedete nelle pubblicità del forex fai anche tu l'8000% insieme a noi ha quello il punto d'arrivo e il punto d'arrivo significa almeno 18 24 mesi di osservazione meno non è che non ci arrivate il paradosso del trading è che anche potenzialmente il primo mese ho avuto trader che mi hanno fatto 15-20 punti se un trader arriva a fare 10-15-20 punti su base mese non è un trader bravissimo è un trader che sta rischiando tantissimo quindi come li ha fatti sul lungo li andrà a perdere il vero obiettivo di un trader non è vincere il biglietto della lotteria o fare sei mesi buoni l'obiettivo di un trader è avere risultati che siano positivi ma soprattutto lineari nel tempo perché io posso fare il 100% su base annua è fattibile poi vi giuro i video arrivo anche alla conclusione di questa serata è fattibile se io però faccio un mese più 8 l'altro mese faccio il più 7 perché comunque ho preso una stoppettina in più poi l'altro mese faccio comunque il più 9 faccio il più 8,50 faccio il più 7 arrivo alla fine dell'anno con fieno in cascina sono stanco perché arriverete seppur lavoriamo dieci mesi all'anno quando arriverete a dicembre se venite a trovarci in ufficio mi vedrete sono un po' smorto in faccia perché è un anno dura sui mercati ecco perché poi ci riposiamo fino a metà gennaio ma tornerete sereni rilassati con la voglia di ripartire con la voglia di riattivare la vostra attività imprenditoriale se mi fate un 20% il primo mese poi perdete il 37 poi fate il 24 poi mi fate ancora il 22 ma poi mi perdete il 30 e fate il 28 il risultato finale è identico ma voi alla fine dell'anno non ce la fate più non ce la fate più e arriverà il mercato a punirvi e quindi sul lungo è un sistema che vi metto per iscritto e non sto parlando solo della mia esperienza di queste cose le toccate ma voi in questi anni non so però parlate con 7-8 mila trainer così è a occhio tutti la stessa cosa c'è un marchio di fabbrica che è insito di ogni essere umano perché purtroppo soprattutto poi quando si fa intraday che le operazioni arrivano di giorno in giorno vi fanno perdere il senso del denaro e per voi che siete qua a cercare invece di questo denaro di farlo crescere di gestirlo in maniera diversa un po' speculativa è vero però ovviamente farlo crescere è il più grande tallone d'Achille che ci possa essere sui mercati unito all'illusione che il mercato può solo andare su o giù e quindi anche uno che non ne sa niente ha il 50% di probabilità di portarla a casa e per una becera statistica le prime volte va sempre bene quella fortuna dei principianti sul trading è quasi una garanzia si creano poi dei meccanismi perversi che poi viene difficile andare a correggere comunque anche da parte nostra occorrono diversi mesi per poi farvi ritrovare quella serenità farvelo rivedere in un'ottica nobile non basato su ma si butto il trade tanto guarda se deve andare bene va bene andare male va male comunque non è vero che così ritrovare quella serietà nell'affrontarlo con l'elemento statistico che ripeto soprattutto quando si parla di intraday non è per tutti perché ci sono delle caratteristiche che prima Noemi ci citava la profilazione di limitless ci sono quattro macro categorie di quelli che sono diciamo degli stili di di quelle che sono le prepensioni degli esseri umani ci sono i protettori che di per sé statisticamente fanno un po' più fatica è normale perché vedono i loro soldi potenzialmente dilapidarsi velocemente anche se vi serve tempo per acquisire quella consapevolezza che in realtà non è così e quindi ci vuole un po' di più a portarvi all'obiettivo però come pro siete molto ligi molto rispettate molto le regole per vostra natura e di conseguenza una volta che vi siete dimostrati e sarebbero mesi che la cosa è tranquilla potenzialmente dove lavorate meglio poi c'è il secondo gruppo quello verde non ricordo idealisti forse che insomma facciamo diciamo siete un po' più spavaldi rispetto a quella che è diciamo una media dei protettori però siete ancora in una fascia piuttosto conservativa quindi c'è ancora un po' la tendenza a essere iperprotettivi e quindi per queste categorie abbiamo visto risultati molto migliori da un punto di vista di investimenti di medio e lungo termine sull'intraday un pochettino di meno poi c'è la terza categoria quella che guarda caso appartengo io guarda caso appartiene Alberto guarda caso appartiene Lorenzo che è su quelli gialli e siamo il giusto mix abbastanza presi bene dalla vita io dico per approcciarsi a uno stile di investimento piuttosto frenetico quotidiano con che a fine giornata c'è o una profita o una loss secca senza possibilità di secondo grado di giudizio è così e dall'altro canto però diciamo abbiamo ancora un animo un pochettino conservativa sotto certi aspetti e quindi diciamo siamo il giusto mix poi ci sono quelli rossi gli esploratori che dal loro canto hanno una grande esuberanza nell'approccio ai mercati quindi è un'operatività che così a pelle amano tantissimo e quando vanno sui nostri corsi di trading e li guardano tutti e quattro dicono belli tutti però io quando ho visto l'intro day wow dall'altro canto questo essere presi bene dalla vita diciamo li porta a volte a essere un po' avventati e quindi prima di arrivare al regime magari non so gli chiediamo di stare in simulata due o tre mesi loro dopo due settimane via sono in genere quindi devono prima essere battezzati nel modo meno nobile della cosa sul mercato e allora poi diciamo raddrizzano il tiro ma all'inizio dobbiamo un attimo tenervi buoni per fare in modo di non farvi male perché come qualsiasi operatività anche questa se non mettete gli stop ovviamente diventa una un'operatività davvero dannatamente rischiosa quindi che invito vi do io in in chiusura di questo anno di questo 2019 spiegarvelo in dieci minuti sarebbe stato veramente impossibile viverlo da un punto di vista emotivo altrettanto quindi insieme all'amministrazione per tutti coloro che sono interessati vi abiliteremo per tutto il periodo natalizio a tutta una serie di episodi che nel bene o nel male tranquilli siamo super parte non facciamo vedere solo le robe belle sarebbe solo una presa in giro momentanea come noi abbiamo combattuto giorno dopo giorno questo 2019 vi fate un'idea anche se indifferita lottate insieme a noi vedete quanto impegno richiede vedete se effettivamente riuscite a incastrare nella vostra vita lavorativa e privata se è così sarà un piacere per me avervi per il sesto anno a partire da metà di gennaio nella nuova edizione del trading club diversamente come dico sempre avete risparmiato tempo e soldi invece di illudervi andare a studiare investire soldi investire tempo sull'operatività che poi per diverse persone si rivelerà inadatta quei soldi lì investiteli o metteteli sul conto o ovunque destinateli ad altre operatività dove sempre parlando di statistiche sappiamo di poter fare un miglior lavoro quindi mandateci pure una mail a info chiocela per chi chiocela assistenza brokers.it per chi ancora non ci conosce per chi sta seguendo il trading club su altre operatività sapete che il tocco umano da noi di sicuro non manca fate uno squelite per favore fatemi dare un'occhiata all'intraday saremo ben lieti di vedere se effettivamente è uno stile adatto a voi e quindi rivederci poi nel 2019 io ringrazio a tutti per l'attenzione di essere stati presenti fino praticamente alle 22 per quanto riguarda gli amici che già sono dentro all'intraday club vi aspetto domani alle 15.15 per il contesto pre-market così insieme andremo a vedere cosa succede su questi mercati e alle 15.30 insieme facciamo un po' di live trading sperando che il mercato ci dia qualche soddisfazione in più di oggi e torneremo sull'oringa come sempre per quest'ultima settimana ciao a tutti e buonanotte grazie a tutti